Ciao a tutti, sono Sissi, bentornati sul canale per questo nuovo mega haul di shopping d'autunno. Ho comprato un sacco di cose, c'è un sacco di cose da farvi vedere, abbigliamento, prodotti, prodotti per i capelli, skin care, profumi. Ok, quindi abbiamo un sacco di cose di cui parlare e una novità grandissima per me, sono gasata, sono troppo felice e anche per voi ovviamente. È una novità, sarà una novità buona, una bella notizia. Prima di cominciare però, come al solito, facciamo un pochino di propaganda canale, perciò se siete qui e non siete ancora iscritti male, malissimo, vi chiedo di iscrivervi qua sotto, che così almeno mi aiutate a crescere con il canale. Il mio obiettivo è sempre quello di arrivare ai 2000 iscritti il prima possibile, perciò iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Lasciatemi un like di supporto e sentiamoci qua sotto nei commenti, fatemi sapere se quello che ho comprato vi piace, se siete interessati, se avete delle domande. Insomma, fatevi sentire, sentiamoci qua sotto, parliamo nei commenti, io rispondo sempre a tutti quanti. Bene, prima di incominciare con LOL, la novità gigantesca di questo periodo, allora parliamo di unghie, parliamo di unghie e volevo farvi vedere innanzitutto le mie unghie, perché ancora non vi ho detto praticamente i colori che ho utilizzato, ho ricevuto un sacco di complimenti sulle unghie, anche se io nella mia testa ho pensato, ho fatto un po' un azzardo perché ho messo questi colori, un ultimo sprint estivo, non sono proprio autunnali, sono ancora un po' estivi, però prima di cambiarle, perché poi prima di Halloween me le faccio, farò un altro colore più adatto alla festa di Halloween, insomma, ho detto prima di cambiarle, prima di passare le unghie di Halloween, parliamone di queste unghie. Dunque, la star principale, che è un po' anche la grande novità del momento che vi devo dire, è questo colore, ok? Questo colore e questo marchio. Allora, io vi ho fatto già vedere questo colore nell'all del Cosmoprof, è il Beatrix di Imena Nails, ok? E sono lieta di annunciarvi che con Imena Nails, la rivendita italiana, ho un codice sconto permanente, quindi d'ora in poi, qua sotto nei miei video, nella descrizione dei video, trovate il codice sconto Sissi10, che vi permette di avere il 10% di sconto sui vostri ordini, al link, qui che vi lascio sotto, ok? Quindi è il link della rivenditrice italiana di questi prodotti di Imena Nails, che è un brand spagnolo. È un brand spagnolo che, appunto, ha prodato in Italia con l'esclusiva di questa rivenditrice, che si chiama Daniela, e quindi, e quindi niente, quindi io ho la possibilità, ho avuto la possibilità di provare questi prodotti, mi hanno dato il codice sconto da darvi, un codice sconto permanente, e quindi per prodotti di unghie e anche Imena Nails, la sua linea di profumi e skincare, che, skincare, creme, cremine, eccetera, che ne parleremo anche più avanti, vi dico solo che ho ordinato un profumo e ne parleremo ad inizio novembre, e quindi avete il codice sconto, il mio codice sconto, io sono completamente trasparente, non ci guadagno, non ho delle commissioni, non ho degli introiti da questa cosa, ma ho, appunto, il codice da darvi per voi, se volete fare un ordine, attenzione, però il mio codice CC10 è valido solo per la rivendita italiana, perciò voi non andate sul sito spagnolo a mettere dentro CC10 perché non funziona, rivolgetevi, appunto, alla rivenditrice italiana per i prodotti che vi conviene anche perché partono dall'Italia e vi arrivano prima. Io vi faccio vedere, appunto, qua il Beatrix, che mi sta piacendo tantissimo, e mi sa che a Natale, per Natale, io me le faccio tutte così, tutte di Beatrix, ve l'avevo già fatto vedere nell'all del Cosmoprof, insomma, è questo colore, molto chrome, ma veramente fa un bellissimo effetto, secondo me anche inserito in una manicure da sposa è bellissimo, e questo brand, appunto, come dicevo, l'abbiamo conosciuto al Cosmoprof, se avete avuto l'occhio lungo, avete visto nei blog del Cosmoprof lo stand di Imena Nails, e, una curiosità, ho parlato direttamente con la titolare del brand e mi ha detto, mi ha detto, il Beatrix è il mio colore preferito, quindi si chiama Beatrix Red, e il codice è Jesolo Livorno, quindi JL718, ok? Però, nelle settimane successive, nelle prossime settimane, vedremo più in dettaglio anche altri prodotti, avrò modo di provare anche altri prodotti, e avrò modo appunto di farveli vedere, visto che siamo comunque sotto le feste, che tra un po' arriva Natale, prima che arriva Natale mi dite, sì sì, io non so cosa regalare ai miei amici, sarebbe anche una buona idea usare un codicino sconto per queste cose, e niente, quindi trovate il codice sconto qua nella descrizione, nell'info box, e poi nei prossimi mesi vi presenterò altri prodotti che ho potuto provare. Passiamo oltre, passiamo oltre, e iniziamo subito con l'abbigliamento, iniziamo con l'abbigliamento, e iniziamo proprio da quello che ho indosso oggi, che è questo maglione, è questo maglioncino, è un maglioncino in cotone traforato, vedete, sembra fatto a maglia, qua, poi ha uno scollo a V, e proprio qua sullo scollo ha questa, ha questa trama di maglia, che mi piace tantissimo, è un maglione, come dicevo prima, in cotone, è traforato in cotone, vedete, non è molto trasparente, io sotto ho una canotta, una semplice canotta, vedete, si vede un pochino la pelle in controluce, se voi vi mettete sotto qualcosa, una canotta nera, non si vede niente sotto, ovviamente, ed è un maglione che secondo me è adattissimo per questa mezza stagione, perché comunque tiene abbastanza caldo, ma non caldissimo, quindi lo potete mettere di giorno così, e di sera vi mettete sopra, magari un giubbino, questo maglione l'ho preso da tacco, che non ha lo store online, ma ha diversi punti vendita in tutta Italia, e è al prezzo di 9,90 euro, ci sono vari colori, io l'ho preso nero, vi faccio vedere anche la lunghezza, non è crop top, è un maglioncino assolutamente di lunghezza normale, qui vabbè c'è la cosa che non ho tirato via, però è un maglioncino di lunghezza assolutamente normale, secondo me super adatto, proprio comodo per questa stagione, ad un prezzo buonissimo. Ok, parlando di giubbino che possiamo mettere la sera, sopra questo maglione, mi sono comprata, ero in giro col camera dad, che lui si doveva comprare anche lui un giubbino, e me lo sono preso pure io, mi sono comprata un giubbino nuovo, in ecopelle, e udite udite, è un giubbino da uomo, perché qui, su questo canale, a noi del gender, non ce ne frega niente, io molto spesso compro nel reparto uomo, è un giubbino di Sonny Bono, ok vi faccio vedere, io ho preso la S, ah di questo maglioncino ho preso la M, questa è la taglia M, mentre di questo ho preso la S, vedete Sonny Bono S, l'ho trovato in super sconto, a 35 euro, cioè un giubbino in ecopelle, che tra l'altro vi faccio vedere dentro è foderato, però ha anche un po' di trapuntina, quindi è un pochino imbottito, perciò non è proprio come i soliti giubbini di pelle foderati dentro, che vi riparano ok, vi riparano dal vento, però ha un pochino di trapuntina, e quindi anche per i primi giorni invernali, magari inverno di giorno, lo potete tranquillamente usare, è veramente ben fatto, di buonissima qualità, e è molto semplice, io ve lo faccio vedere adesso indossato, perché così, vederlo così non è che rende molto, è fatto tipo bomberino, forse così si vede meglio, è fatto bomberino, ha le tasche con le cerniere, sotto la fascia, sia in vita che sulle mani, ve lo faccio vedere indossato, è un giubbino normale, semplicissimo, basic, eccolo qui, abbastanza nel mio stile, un po' rock, e quindi ero in giro appunto, con il camera dead, poi l'ha trovato pure lui il giubbino, però me lo sono comprato pure io, ce l'ho detto, 35 euro, cavoli, cioè super offerta, è bello, è bello imbottito, tiene molto caldo, anche qua nelle mani, nelle tasche, insomma, ed è ottimo, per come mi verso io, quindi con un leggings, gli anfibi, e un maglioncino, oppure i jeans, jeans, maglioncino e scarpa da tennis, per uscire, è l'ideale, molto semplice, molto, tiene ben caldo, quindi sono contentissima, dell'acquisto che ho fatto, allora abbiamo ancora un paio di cose, come abbigliamento, vado veloce, perché queste cose ve le ho già anche fatte vedere, in passato, allora sono andata da Decathlon, e mi sono comprata due paia di leggings, i soliti leggings miei, che compro da Decathlon, sono leggings assolutamente anonimi, non hanno nessuna scritta, non hanno niente, e sono in cotone, ovviamente, e io li ho presi in misura L, li ho presi grigione, vedete così grigio scuro, che va bene, sia con il nero, che con il bordeaux, con altri colori, con insomma i colori invernali, che metto io, e neri, semplicissimi, io li avevo presi, anche a fine stagione, primaverile, questi leggings, solo che li ho messi nell'armadio, e non li trovo più, è possibile che io non li trovo più, quindi, ero stufa di cercare, ho detto, sai che c'è, me li compro, sono un pochino aumentati, perché adesso mi sembra che sono sui 7 euro, e rotti, però, raga, è aumentato tutto, che cosa ci dobbiamo fare, e poi il pigiama, che vi ho fatto vedere, nello scorso vlog, ma siccome io sono, logorroica, e ripetitiva, ve lo faccio rivedere, perché se qualcuno si è perso il vlog, mi piace troppo sto pigiama, così lo posso cominciare a mettere, lo metto a lavare, lo posso cominciare a mettere, perché, se no, io, cioè, prima, prima di farvi vedere le cose, io non le uso, a parte questo maglione, che vabbè, l'ho messo oggi, cioè l'ho messo ieri sera, e lo voglio tenere anche oggi, questo pigiamino di Tezenis, in cotone, 100% cotone, con queste stelline, pianetini, e costellazioni, molto appropriato, per il tema notte, molto carino, io ho preso la M, anche di questo, ok, viene 22,99, insieme con i pantaloni, è rosino, con i pianetini neri, mentre i pantaloni, che sono pantaloni normalissimi, hanno, scendono, non hanno l'arricciatura, né niente, scendono dritti, in vita, sono così, sono elasticizzati, non ho preso la L, anche se vabbè, col pigiama, è meglio stare larghi, perché la L, è veramente molto larga, cioè le taglie di Tezenis, sono comunque, abbastanza grandi, e questi pantaloni, sono appunto neri, con i pianetini, le lune, le stelle, rosina, il rosino, del, della maglia, insomma, io vi do un consiglio, ragazzi, andate a letto, con le cose di cotone, o con fibre naturali, perché se andate a letto, con le robe sintetiche, sudate, piuttosto, vi coprite al mattino, quando vi alzate, con una vestaglietta, o qualcosa, però andate a letto, con le cose di cotone, con i pigiami di cotone, con, o comunque con fibre naturali, questo è il consiglio spassionato, che vi do, passiamo oltre, e parliamo di profumi, parliamo di profumi, perché mi sono comprata, un paio di profumi, equivalenze, ok, quindi parliamo di low cost, e parliamo di equivalenza, uno mi piace di più, uno mi piace un po' di meno, e adesso li vediamo subito, allora, il primo, quello che mi sono innamorata, è questo, il marchio Conver, ed è un marchio, è un brand italiano, ve l'avevo già fatto vedere in passato, perché ho comprato, sempre di Conver, questo profumo, che si chiama Blossom, giusto, sì, adesso non si vede, perché la scritta è qua rossa, si chiama Blossom, e Blossom, dovrebbe essere, un'equivalenza, di un profumo di Gucci, io credo che sia Gucci Bloom, a questo punto, non sono andata a sentirlo in profumeria, ma è un profumo molto intenso, è un profumo molto intenso, molto forte, che io, ho un pochino sbagliato a prenderlo, perché, adesso non è che mi piace più di tanto, però, lo farò sentire alle mie amiche, o se no, lo utilizzerò come un po' profumo, per l'ambiente, mentre mi sono innamorata, e lo sto già usando da un po', di questo, il brand, appunto, vi dico, è Conver, e si chiama Dionisio For Her, quindi Dionisio, per lei, ed è, l'equivalenza di un, di Narciso, del profumo di Narciso, Rodriguez, ok, Dionisio, il packaging è veramente, sempre molto curato, anche questo, vedete che comunque, è molto curato, questo ancora di più, è ancora più essenziale, e più minimal, più chic, ok, ed è veramente buonissimo, cioè, io, per dire da Sephora, i Narcisi, non me li sono mai calcolati, perché, quando li sentivo da Sephora, il mio naso, era come se non, non percepisse il profumo, io dicevo, ma io non sento niente, non lo sento, sto profumo, invece, è un profumo molto buono, cioè, almeno questo, è molto buono, è molto cipriato, è un cipriato, è veramente un cipriato, è rosa, è così, è così, vedete che è un po' rosino, è rosa, è cipriato, è veramente buonissimo, ed è appunto, l'equivalenza di Narciso, io credo che sia Narciso, quello principale, insomma, è veramente buono, io mi sono innamorata, lo sto usando tanto, lo sto usando, anche se non sembra, perché comunque, cioè, lo sto usando, è veramente, mi piace tantissimo, lo trovate su, nei negozi, quelli tipo, dove hanno i profumi di equivalenza, tipo, credo, Risparmio Casa, CVG, Best Buy, vedete dove, dove tengono il marchio Conver, tenete in mente il nome Dionisio Conver, e lo trovate lì, lo trovate anche su internet, su un negozio, vabbè, fate la ricerca su internet, un negozio che si chiama, tipo, Carina Shop, comunque, lo trovate anche, volendo, su internet, è un profumo low cost, il secondo profumo low cost, che ho comprato, è questo, che si chiama Pantea, il marchio è Naturmice, ok, questo è un brand spagnolo, questo è un po', non è, vedete, è un po' più cheap, come, come packaging, ok, vedete, c'è questo, c'è questa cosa qua sopra, questo tappino, un po' così, no, questo è un po' più cheap, come packaging, ed è però, l'equivalenza di un profumo, che io ho, ed è, la Panthère, di Cartier, ok, quindi questo si chiama, Pantea, si chiama Pantea, ed è appunto, l'equivalenza di La Panthère, di, appunto, Cartier, e, io l'ho preso, perché è quell'altro, quello originale, che io ho, cioè, devo dire che, io, avendo l'originale, è molto fedele, ok, è molto fedele, all'equivalente, quello originale, e appunto, ho voluto prendermelo così, un'equivalenza, per usarlo, di più, perché io, quello lì, originale, lo uso proprio, nelle occasioni, veramente speciali, e, siccome mi piace la fragranza, ho detto, mi prendo, un'equivalenza, da usare, un po' tutti i giorni, e il ragionamento, non è sbagliato, perché voi, magari avete, il profumo originale, che appunto, siccome costano, costano tanto, l'utilizzate, un po' con parsimonia, nelle occasioni speciali, e poi, vi tenete l'equivalenza, da usare, un po' tutti i giorni, a sentimento, questo appunto, sia come packaging, perché vedete, è un po' più, al packaging, un po' più cheap, di Conver, sia come tenuta, è molto fedele, perché io ho fatto, il confronto con quello originale, è fedelissimo, però come tenuta, questo è molto più persistente, di questo, però, sono tutte e due, due low cost, e vanno benissimo così, cioè, è proprio, una questione, di dover fare una differenza, sono molto validi, tutte e due, se, trovate il marchio Conver, hanno anche altre, altre equivalenze, anche da uomo, eccetera, magari io, prossimamente, ne prenderò altri, e, ve li farò vedere, insomma, però, se trovate il marchio Conver, prendete, prendetelo, prodotti capelli, allora, questo mi sta piacendo un sacco, questo prodotto qua, e lo trovate su Notino, lo trovate su Notino, è del marchio Inebria, ok, è del marchio Inebria, e questo è, un balsamo Livin, quindi, un balsamo senza risciacquo, bifasico, in realtà, adesso lo vedete, un po' tutto dello stesso colore, perché si è un pochino shakerato, è un bifasico, ma è un bifasico non oleoso, voi lo sapete, che a me, l'olio, soprattutto sui capelli, non si può usare, ok, è un bifasico non oleoso, e qui dice, è appunto, con cheratina, con cheratina, con balsamo bifasico, ristrutturante, conditioner bifasico, ristrutturante, qua dice, qua dietro dice, ideale per capelli secchi, crespi, trattati, districa efficacemente, lasciando capelli setosi e luminosi, elimina il crespo, e protegge dal calore, quindi fa anche da protettore per il calore, restituendo un aspetto forte, vitale, uso, dopo lo shampoo, vaporizzare, su capelli tamponati, su lunghezze e punte, massaggiare, pettinare, allora, voi pensate che io lo uso così, cioè, io posso mai, una volta nella mia vita, usare le cose, come si, cioè, fare le cose, come si devono fare, no, siccome io, dopo lo shampoo, uso altri prodotti, questo lo sto utilizzando, si scechera, scecherando, scecherando, lo sto utilizzando, magari tipo il secondo, il terzo giorno, così, sulla lunghezza dei capelli, per disciplinare, e va benissimo, va benissimo su capello asciutto, così, per disciplinare, lucidare, profumare, perché, ragazzi, ha un profumo, molto fresco, molto dolce, molto fiorito, ha un profumo, veramente buonissimo, che mi viene voglia, di sfruzzarmelo tutto addosso, l'altro giorno, sapete che cosa ho fatto, ho fatto la coda, mi sono messa un pochino, di gel di aloe vera, per tenere a bada, i capellini, insomma, e dopo che ho messo il gel, appunto, mi sono un pochino messa, un po' di questo, sia sulla, sia qua, sulla testa, vicino alla cute, sia sulla lunghezza della coda, ok, e quindi, mi è venuta una bella coda, bella lucida, luminosa, e profumata, quindi, adesso, soprattutto, quando magari, ci abbiamo chiuse le finestre, che si fa da mangiare, si attaccano subito, sui capelli, l'odore di mangiare, gli date una rinfrescata, qui, così, lucidate, disciplinate, e anche, profumate il capello, questo è, io lo amo, lo amo alla follia, già, e se ne consuma davvero, molto poco, perché lo sto usando, da, già, qualche settimana, e vedete che ancora, faccio tipo, tipo, tre o quattro spompettate, nella mano, io non lo spruzzo così, preferisco sempre, essere, avere più controllo, della cosa, quindi, faccio tre o quattro, spompettate, nella mano, mischio bene, e lo metto appunto, sulle lunghezze, non l'ho ancora provato, sui capelli bagnati, l'ho provato sui capelli asciutti, va benissimo, penso che vada bene, che ovviamente, sui capelli bagnati, che altro devo dire, su questo prodotto, niente, mi sembra di aver detto tutto, e basta, lo trovate appunto, su Notino, a nove euro e qualcosa, quindi, abbastanza lo costo, nove euro e cinquanta, tipo, una cosa del genere, quindi, si chiama Ice Cream Keratin, di, in ebria, andiamo avanti, passiamo avanti, un altro prodotto per capelli, che ho comprato, però, ancora non ho utilizzato, è il Tricobio, di, eh, l'erboristica, Atenas, ok, vedete, non so se si va, perché c'è luce, l'erboristica Atenas, Tricobio, e si chiama, riparazione profonda, siero, fortificante, riparatore, anche questo, è con cheratina vegetale, capelli secchi e danneggiati, io non è che ho i capelli, particolarmente danneggiati, però, quando vedo le cose, fortificante, riparatore, cioè, devono essere miei, subito, immediatamente, anche questo, è da utilizzare, eh, agitare prima dell'uso, eh, distribuire su capelli bagnati, qualche goccia, sulle lunghezze, sulle punte, procedure, procede, procedure, procedere con l'asciugatura, questo, lo proverò, quando finirò, i prodotti che sto utilizzando, al momento, quindi, vi farò sapere, eh, comunque, aperta e chiusa parentesi, visto che stiamo parlando di capelli, cioè, l'integratore, quello che vi ho fatto vedere, nello scorso vlog, il miglio di aboca, cioè, pazzesco, ragazzi, io non so se adesso è tutta, suggestione, però, vabbè, mi stanno cadendo ancora capelli, perché secondo me, quelli che devono cadere, ormai cadono, però, me li sento, come rinvigoriti, stamattina li ho lavati, e ho avuto la sensazione, proprio come se anche alla cute, alla radice, fossero, cioè, i capelli che ho attaccati, fossero più, boh, tipo, rinvigoriti, davvero, cioè, comunque non ce n'è, aboca, in generale, è un marchio, che, io mi sono sempre trovata bene, secondo me, è un marchio, molto valido, quindi, il miglio per capelli, integratore di miglio, aboca, ok, 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 allora, abbiamo quasi finito, due cose, una maschera, mi sono comprata una maschera stick, anche questa, proprio low cost, la trovate su internet, sempre anche sullo shop, la trovate sia su ebay, su internet, nei negozi tipo best buy, eccetera, che tengo, dove tengono il marchio, retinal complex, o face complex, ho già provato, vari prodotti, di questo marchio, perché, comunque, mi trovo, sono low cost, e mi trovo sempre, bene, e ho preso questa maschera, una maschera viso in stick, mi piace il concetto, a me, della maschera in stick, questa è, anti age, e dice, detossinante, esfoliante, e idratante, con acido ialuronico, argilla bianca, io l'ho presa in realtà, perché c'è l'argilla bianca, perché, in teoria, l'argilla bianca, se non mi sbaglio, al massimo, correggetemi qua sotto, è l'argilla, un po' più delicata, di tutte, rispetto a tutte le altre argille, e acido palmitico, che non ne ho idea, di cosa sia, però, non l'ho mai sentito, come attivo, però, mi da, mi piace proprio il concept, il concept, a me, della maschera in stick, così non mi sporco le mani, cioè, proprio, passo lo stick sul viso, poi dopo, quando ho marinato, per quanto dice, 15 minuti, di solito, no, lasciare agire 5 minuti, e poi lavarla, con acqua tiepida, quindi, è pure express, questa maschera, e quindi, mi piace il concept, della maschera stick, ce n'erano altre, varie, c'era anche quella, detox, con l'argilla, il carbone, quindi nera, poi c'era quella verde, c'era quella rossa, la mia amica, l'ha presa con l'argilla rossa, e, il profumo è abbastanza fresco, lo so messo sul naso, è abbastanza comunque, fresco, di pulito, e vediamo un po', mettiamola sulla mano, com'è, la mano è pulita, vediamo, ah, come mi piace, da spalmare, guardate che roba, è molto bella, mi piace, me lo sento, mi piace come sensazione, non vedo l'ora di usarla, non l'ho ancora provata, adesso finalmente, ve l'ho fatta vedere, la posso usare, che sia, sia mai, che comincio a farmi le maschere, perché io, con le maschere, proprio, faccio skin care, tutto quanto, ma la maschera, è proprio una roba, che non mi viene di farla, non lo so, non riesco a trovarmi, 5 minuti per me, 5 minuti, per fare la maschera, magari la facciamo insieme, in un prossimo vlog, anche però non vedo l'ora, veramente di provarla, anche di questa, vi farò sapere, ultimo prodotto, e poi chiudiamo, perché qua, è la solita mezz'ora, che si fa sempre, profumo, ma non per il corpo, ma per la macchina, ho trovato questo profumo, alla cannabis, per la mia 500, allora, io l'ho tirato fuori, dalla scatola, per cercare di sentirlo un po', allora, sta, è un profumo erbaceo, sta un po' di pino, sta un po' di salvia, non è proprio, esattamente, l'odore della cannabis, ok, vediamo che cos'è, il marchio è Pradi, ok, e vediamo cosa dice, marijuana, cannabis, profumo per auto, made in Spain, anche questo, rimaniamo in tema, con i brand spagnoli, e, e niente, quindi, è il classico profumatore, che voi ve lo attaccate, sapete, togliete il, il tappino che c'è dentro, togliete il tappino che c'è dentro, lo inserite, fate bagnare il tappo in legno, e lo, lo mettete attaccato al, allo specchietto in macchina, oppure attaccato al coso, al pomello del cambio, vedete voi, dove lo volete mettere, e, adesso ho uno che si chiama Oceano, tipo, quindi, brezza di mare, quella, quella cosa lì, quella profumazione lì, e poi ho preso questo, la cannabis, sembro sempre una fattona, non è vero, in realtà, è buono, è erbaceo, sa un po' di salvia, un po' di rosmarino, così, ma, non è che sa proprio di cannabis, quindi, cioè, quindi, non etichettatemi come la, la fattona di youtube, ok, così, mi sembrava carino, mi sembrava simpatico, provarlo, anche di questo, vi saprò dire, però, sono comunque profumazioni, che sono sempre molto in macchina, sono sempre abbastanza blande, poi, adesso che vi è l'inverno, nel senso, non è che c'è la macchina sotto il sole, che, evapora il profumo, e, e quindi, stagna, e quindi, niente, quindi, questo, è quanto, io spero di, esservi stata utile, in qualche modo, soprattutto, con, questa grande novità, di questo codice sconto, e, per i prossimi contenuti, del prossimo mese, delle prossime settimane, adesso facciamo passare Halloween, che, anche per Halloween, c'ho in programma, delle belle, dei bel dolcetti, o scherzetti, sul canale, quindi, facciamo passare Halloween, e poi, parliamo, più anche, dettagliatamente, di, di questo brand, con cui, ho cominciato, appunto, a collaborare, e, del quale, vi posso dare, questo sconto del 10%, che, molto meglio che niente, soprattutto, di questi tempi, va bene, io vi bacio, come al solito, mi raccomando, iscrivetevi, se non siete iscritti, lasciatemi un like, di supporto, e, sentiamoci qua sotto, nei commenti, adesso, vado a, lavare via questa argilla, noi ci vediamo, prestissimo, con un nuovo video, io vi bacio, ciao!